Sapevamo del tipo di partita che ci attendeva, un po' per la squadra avversaria come scese in campo, quindi con una difesa 5 molto strutturata, molto solida per l'atteggiamento che avevano, quindi di lasciarci campo e venire. Immaginavamo di trovare una squadra che fosse anche in un momento di difficoltà, perché non faceva un risultato da un po', e quindi partita maschia, spigolosa, seconde palle, calci piazzati, il terreno di gioco impresentabile, quindi a volte la palla la stavi calciando, magari saltava male e prendeva altra direzione. Era una partita difficile sotto questo punto di vista, ma lo sapevamo e l'avevamo preparata così. Credo che sia stati perfetti sotto il punto di vista delle interpretazioni di questo tipo di gara, senza concedere nulla, sempre accorti bene sulle soluzioni degli avversari, li abbiamo sempre aggrediti, li abbiamo invitati tante volte a commettere degli errori, abbiamo provato a gestire, ripeto, campo permettendo il pallone, credo che il possesso sia stato quasi sempre nostro, e siamo stati anche bravi perché due o tre occasioni abbastanza ninti le abbiamo create, quella lì di Ricci, il primo tempo c'era stata quella con Di Chiara, che praticamente a portiere è battuto, insomma, palla con Antei, salvataggio sulla linea, quella. Poi c'è stata l'altra di Improta, che è stato sul rimpallo, che dopo è arrivata la palla a coda e ha calciato alto. Quindi credo che la cosa importante di oggi era quella di approcciare la partita nel miglior modo possibile e giocarla con un alto livello agonistico, quello che abbiamo fatto. Quindi ho rivisto la mia squadra, quindi dal punto di vista della prestazione, come atteggiamento, c'eravamo. Abbiamo sbagliato 5-6 secondi, quelli del gol. Purtroppo siamo stati leggeri, abbiamo pensato che con l'uomo in meno mancasse un minuto e quindi non rischiavamo più. Abbiamo mollato quei 5 metri, quel metro, e quindi siamo arrivati i secondi sul rimpallo, non abbiamo fatto bene la diagonale, siamo arrivati i secondi sul cross, siamo arrivati i secondi sulla respinta e questo lo paghi, nel calcio lo paghi. Quindi siamo riusciti a perdere una partita senza che gli avversari fossero entrati mai in area di rigore, perché questa è la realtà. Quindi oggi sono molto arrabbiato, molto, perché non possiamo perdere una partita così. Quindi già il pareggio l'avrei preso bene, perché non l'avamo rischiato e ho ritrovato la mia squadra come atteggiamento. Però sarebbe stato sicuramente già quello lì stretto, e addirittura una sconfitta ci lascia con molto rammarico e personalmente, ripeto, sono arrabbiato perché non possiamo subire un gol del genere. Tuglia purtroppo ieri nella rifinitura ha avvertito un fastidio, una contratturina all'adduttore e quindi non era disponibile. Così come purtroppo ha avuto un problemino a Bright, a Gianfi, che durante la partita invece del venerdì ha subito un colpo da Letizia, ovviamente il volontario, però c'è un problema alla schiena. Quindi eravamo dietro proprio numericamente contati, e questo è per il reparto difensivo. Per quanto riguarda il mezzo al campo, sì, c'era Nicolas che nelle ultime due spezzoni era entrato bene, mi era piaciuto come atteggiamento, quindi mi piaceva l'idea di metterlo dentro in una partita dove, nonostante il campo sapevo fosse brutto, però avevamo sicuramente la possibilità di giocare, di avere noi in mano il pallino del gioco. E poi Teglio che è completamente recuperato, è un giocatore di grande sostanza, quindi si fa sentire sempre nella dinamica della partita. Io credo che ci sia, ovviamente, nei momenti così ci sia un po' di tutto, non c'è la causa, altrimenti sarebbe troppo facile se il problema fosse un giocatore sottotono e uno lo cambia e risolve il problema, non è così. Poi sono due sconfitte completamente diverse. A Livorno è una gara non giocata, invece quella di oggi è stata una gara giocata per come doveva essere. Sono d'accordo sul discorso che davanti non abbiamo trovato le nostre giocate, però credo che siano anche le caratteristiche di questa squadra. Noi abbiamo fatto sempre fatica a sfondare con squadre strutturate che ci aspettano basse, che si chiudono dietro. È quello per le caratteristiche dei nostri giocatori. Coda non è il classico centro avanti di sfondamento. Insigne è un giocatore che ama giocare tra le linee, negli spazi. Le nostre mezzali sono giocatori di inserimento, quindi quando troviamo gli spazi intasati dobbiamo trovare soluzioni diverse. Una di queste era il doppio play. Perché? Perché sia Viola che Crisetti hanno un gran calcio da fuori aria, quindi magari è una soluzione. Quando trovi squadre che ti aspettano basse può essere anche la conclusione dal limite. E quindi cerco anche di ragionare sotto questo punto di vista. Poi credo che questa squadra abbia dimostrato nel tempo le proprie qualità e i propri difetti. Di sicuro l'area di alta classifica ci fa male. Sembra che ogni volta che arriviamo lì c'è da fare lo step definitivo qualcosa un po' ci frena. Forse siamo abituati e dobbiamo continuare a soffrire, ad inseguire. Quindi con grandissima umiltà come abbiamo sempre fatto prendiamoci questa sconfitta teniamocela bene in mente perché a differenza di quella di Livorno dove non ero assolutamente né arrabbiato né preoccupato quella di oggi, ripeto, mi fa arrabbiare molto. Un'arrabbiatura che dura poco perché già stasera penserò alla prossima partita perché non possiamo perdere tempo né tantomeno farci condizionare da queste cose. Lo so che come i tanti risultati utili consecutivi accrescono l'entusiasmo, l'autostima la convinzione di fare qualcosa di importante così due sconfitte lasciano un po' l'amaro in bocca e creano ovviamente una sensazione negativa. Noi dobbiamo essere bravi però a non farci condizionare. Quindi queste due sconfitte le teniamo assolutamente in mente. Le abbiamo patite quella di lunedì scorso sicuramente in maniera meritata quella di oggi no perché veramente non abbiamo concesso nulla però è bastato per perderla e ripartiamo. Dieci giornate, due mesi dobbiamo essere precisi, perfetti sotto ogni punto di vista ed essere equilibrati. Quindi ora non facciamo l'errore di buttare il tanto lavoro all'aria e quindi grande serenità nel dispiacere ovviamente perché adesso il sentimento e le sensazioni sono vive più che mai quindi c'è grande dispiacere però da domani riprendiamo a lavorare con la serenità che ci ha contraddistinto in questo periodo forse dall'inizio dopo un momento di difficoltà abbiamo trovato serenità non guardare i risultati delle altre perché è uno spreco di energie vedere che il Brescia piuttosto che il Palermo il Verona vincono, perdono e quindi allora abbiamo l'occasione di allungare di superare di fare noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi questa è l'unica cosa che dobbiamo fare e dobbiamo riprenderla a fare già da sabato c'è un'altra gara difficile importante che dobbiamo assolutamente cercare di vincere Nicolas ha fatto bene era la prima partita che rigiocava dall'inizio dopo tantissimo tempo quindi è normale che immaginavo un suo calo ma credo che Nicolas lo scorso anno le partite migliori le abbia fatte proprio in quel ruolo lì con Sandro davanti alla difesa lui che giocava da interno quindi con la possibilità di svariare di mettersi tra le linee di poter giocare palla oggi non era facile anche per l'atteggiamento tattico dell'avversario per la qualità del campo quindi questo sicuramente è stato un deterrente per lui perché Vokic? perché Vokic ha le caratteristiche che si avvicina di più a Nicolas cioè è un giocatore di grande qualità che ha calcio da fuori aria e quindi proprio per quello che dicevo prima poteva magari concludere un tiro da fuori un inserimento una giocata quindi volevo cambiare caratteristiche per caratteristiche quindi non mettere un giocatore magari come Bandinelli che poteva darci più intensità o insomma agonismo ma volevo un giocatore che avesse comunque sia qualità come Nicolas per continuare a fare quel tipo di partita che in quel momento lì insomma stavamo facendo abbastanza bene ovviamente ci sono i periodi i periodi dove la condizione fisica la condizione mentale insomma mille situazioni fanno sì che puoi rendere al meglio e sicuramente i nostri attaccanti sono stati in questo giro di ritorno tutto all'inizio brillanti sotto tutti i punti di vista quindi ci può stare un momento un attimo di appannamento però credo che le difficoltà soprattutto stasera non parlo del Livorno ma di oggi siano state date anche dall'atteggiamento dell'avversario insomma un giocatore come Insigne come Coda che magari amano fraseggiare e duettare con un avversario che ti aspettava in 20 metri tutti chiusi 5 difensori più 300 campisti più 2 punte che veniva a portare pressione su un campo impraticabile diventa difficile riuscire ad esaltare le loro qualità quindi ahimè hanno insomma poi finito magari con lo spegnes o con non riuscire a tirar fuori il meglio delle loro qualità non riuscire ad esaltare non riuscire ad esaltare